Buonasera a tutte e a tutti, io sono Giulia Avancini, lavoro nell'area ricerca e sviluppo di Ericsson e vi do il benvenuto a questo webinar dedicato all'ascolto. Ricordo a tutte e a tutti voi che questo webinar è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ericsson appunto. Quindi sarà possibile rivedere la registrazione della diretta utilizzando gli stessi link a cui siete collegati in questo momento. I link possono essere anche condivisi con tutte le persone, i colleghi, le colleghe che pensate possano essere interessate a questo importante tema dell'ascolto. Introduco questo momento partendo da una domanda. Perché abbiamo deciso di dedicare uno spazio di questo tipo all'ascolto? Potremmo dirci in realtà che ognuno di noi ascolta tutti i giorni, che ascoltare è un'attività automatica, un'attività immediata, forse addirittura naturale. Ma quell'attività che noi mettiamo in atto in questo modo, che definiamo immediato, quasi istintivo, è davvero ascolto? In particolare quando ci riferiamo all'ascolto nella relazione d'aiuto in qualità di operatori e operatrici, dobbiamo chiederci se siamo davvero sicuri e sicure di ascoltare. Forse appunto possiamo dirci che tutti i giorni comunichiamo con chi c'è attorno, ma ascoltare in realtà è qualcosa di molto diverso. Come appunto ci insegnano Luca Bonini e Enrico Tomasi nel loro libro che è appena stato pubblicato per Ericsson, Il potere gentile dell'ascolto, dalla teoria alla pratica, ascoltare appunto non è solamente la capacità di sentire le parole, ma è l'arte anche di capirne il significato e di trasmettere alle persone con cui ci interfacciamo una comprensione e un supporto che sia autentico. E questo quindi è alla base di una relazione d'aiuto che sia efficace e di un percorso che sia appunto realmente condiviso all'interno di questa relazione. Da questo lavoro appunto di Luca Bonini e di Enrico Tomasi è nata l'idea di strutturare un evento proprio su questo tema. Quindi come Ericsson abbiamo deciso di progettare e proporre una giornata formativa dedicata proprio a questo argomento fondamentale per gli operatori. Questa giornata formativa intitolata L'ascolto nella relazione d'aiuto, allenare e costruire competenze per un efficace lavoro con le persone. Questa giornata formativa si terrà interamente online il giorno 11 marzo dalle 9.30 alle 18, quindi per un'intera giornata. In chat a breve vi segnalerò il link per visionare la scheda prodotto di questo momento formativo. Ma detto questo, per ragionare su questo tema, appunto il tema dell'ascolto, possiamo partire dalla consapevolezza che operatrici, operatori sociali e sociosanitari nel loro lavoro quotidiano sono chiamati ad ascoltare. Ma appunto come già ci siamo detti in questa introduzione, non si tratta quindi di un'operazione automatica, spontanea. Anzi, è un'attività che va curata, va allenata e durante la giornata formativa appunto i partecipanti avranno modo di riflettere sul significato dell'ascolto e sulle modalità anche di implementazione di questo ascolto insieme a grandi voci del panorama nazionale. Infatti, insieme a noi oggi ci saranno queste persone che inizieranno oggi a ragionare con noi su questi temi. Inoltre i partecipanti alla giornata formativa dell'11 marzo avranno modo anche di sperimentarsi, quindi concretamente in attività operative e laboratoriali connesse alla pratica e al lavoro quotidiano. Eccoci quindi ad iniziare una riflessione in merito al significato dell'ascolto in cui ci poniamo una domanda chiave che è il titolo di questo webinar. Perché ascoltare è importante? Partendo quindi da questa domanda abbiamo deciso di sviluppare una riflessione assieme ad un'esperta e un esperto che saranno anche appunto due delle voci coinvolte nella nostra giornata formativa di cui vi ho appena parlato. Inizio quindi a presentarveli per poi iniziare a riflettere con loro appunto sul valore dell'ascolto in riferimento alle loro competenze specifiche su questo tema. Do quindi il benvenuto a Luca Bonini e a Lisa Iotti che ci accompagneranno in questa riflessione. Buonasera. Prima ve li presento. Allora abbiamo con noi Lisa Iotti, giornalista di inchiesta. Da anni è inviata del programma di approfondimento di Rai 3 presa diretta. Ha realizzato numerosi lavori, tra cui il reportage Iperconnessi, con il quale ha vinto il premio Goffredo Parise. È autrice del libro Otto Secondi, viaggio nell'era della distrazione, edito dal Saggiatore, che appunto analizza l'impatto delle nuove tecnologie sulle nostre capacità cognitive ed emotive. È stata anche protagonista di un TED su questo argomento. Vicino a lei, virtualmente, abbiamo Luca Bonini, analista ordinario della Società di Psicanalisi e Psicoterapia Sandor Ferenzi, è psicoterapeuta individuale e di coppia, è membro associato dell'International Sandor Ferenzi Network e editor in SHIF di ARPA Edizioni. Coordina dei consultori sia a Brescia che a Trento. Collabora con la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica di Brescia nella laurea magistrale di Psicologia degli Interventi Clinici nei contesti sociali. Quindi, benvenuti. Sì, benvenuti, benvenuta. Abbiamo pensato di utilizzare lo spazio che abbiamo a disposizione proponendovi delle domande che ho preparato per poi lasciare spazio anche alle domande delle persone collegate che appunto ci stanno seguendo online e che potrebbero portare appunto delle riflessioni e delle domande sul tema. Quindi, invito chi ci sta ascoltando ad utilizzare la chat di YouTube o i commenti Facebook per proporre queste domande o queste riflessioni. Non rubo troppo altro tempo alla riflessione condivisa e parto con una domanda per Luca su questo importante tema. Una domanda che potrebbe sembrare semplice ma io credo sia molto complessa. Cioè, perché ascoltiamo e perché spesso è difficile ascoltare? Ma sicuramente la domanda è complessa e per rispondere a questa domanda non basterà la nostra giornata di convegno figuriamoci se possiamo rispondere adesso in pochi minuti. Credo che noi la complessità dell'ascolto l'abbia nella mente e soprattutto chi poi fa dell'ascolto la propria professione e certamente oggi più che mai la complessità dell'ascolto si fa sentire fuori e dentro dalle nostre professioni d'aiuto ma più in generale verrebbe da dire che ascoltare è importante perché ascoltare è il centro dell'umano e certamente questo è tema che dobbiamo avere bene in mente è centro dell'umano è centro dell'umano dentro la propria comunità è centro anche del divenire umani. Se partiamo un po' da lontano diciamo così capita con una certa frequenza non voglio certamente demonizzare il telefono piuttosto che i social ci mancherebbe insomma li utilizziamo tutti piacevolmente ma capita con una certa frequenza ad esempio di incontrare in questo tema ridondante di incontrare mamme con bambini molto piccoli che di fronte al pianto dei bambini non sono così solerti perché magari impegnate in altro perché magari impegnate con il proprio telefono certamente se questo accade non è un problema certamente se questo accade anzi può se accade non troppo spesso può essere anche d'aiuto al bimbo e al suo senso di tolleranza della frustrazione ma che cosa accade se di fronte al pianto del bambino che poi è una richiesta che poi è una richiesta d'ascolto che poi è una richiesta d'aiuto che cos'è che accade se di fronte al pianto del bambino la mamma non risponde e non risponde con una certa frequenza quello che accade ad esempio è che questo bambino non impara all'interno della relazione quei processi di autoregolazione emotiva ed affettiva che poi diventano centrali evidentemente per la sua crescita cioè per questi bambini l'ambiente la relazione madre-bambino diventa epigeneticamente proprio fonte di disregolazione piuttosto che fonte di regolazione emotiva e affettiva con delle evidenti ripercussioni diciamo così dal punto di vista del suo sviluppo psichico perché dico questo? dico questo perché questa forma di ascolto che forse è la prima forma di ascolto in cui siamo coinvolti contiene già in sé tutta una serie di questioni che come dire hanno bisogno sicuramente di tempo per essere sviluppate e che magari se sollecitano la curiosità possiamo rimandare anche eventualmente alle domande in coda al nostro webinar ma come dire questo tema contiene l'importanza intanto dell'ascolto come forma di sintonizzazione come forma in qualche modo di empatia contiene l'importanza dell'ascolto come l'essere tra i presupposti un buon contenitore cioè essere capaci di ascoltare ma anche di contenere ma anche di tenere dentro di sé diciamo così una serie di emozioni che il nostro interlocutore con noi sta ovviamente condividendo contiene tutto il tema dell'intimità che credo spaventi oggi sempre di più io credo che in termini generali molto spesso utilizziamo la parola narcisismo forse anche con delle eccezioni troppo negative ma sicuramente oggi il narcisismo è un tema pervasivo diagnosticamente pervasivo un mio fa sempre che non deve far paura il narcisismo in sé ma il narcisismo che è in me dice lui riferito a se stesso che credo sia tema su cui tutti noi dovremmo sviluppare una certa forma di sensibilità ma come dire che cosa accade quindi quando non c'è sufficiente intimità non c'è sufficiente sintonizzazione non c'è sufficiente empatia che cosa accade al bambino ma anche che cosa accade tra adulti ecco io credo che questo sia forse il primo dei tanti temi che possiamo toccare sull'ascolto nel senso che l'ascolto è la costruzione prima di tutto di uno spazio di intimità e uno spazio di intimità è uno spazio sempre più difficile certamente in un mondo adesso lo dico in termini molto generali che iperinveste sul sé inibendo di fatto la curiosità per l'altro per la ricchezza della relazione e per quello che può accadere di nuovo nell'apertura di una relazione nella costruzione di una relazione è qualcosa che ha che diventa sempre più difficile soprattutto nell'accelerazione diciamo così di alcuni processi e di alcune dinamiche relazionali perché l'ascolto è in prima battuta dicevo curiosità è in prima battuta ovviamente attenzione e per fare questo necessita di tempo necessita anche di un tempo lungo e su questo certamente Elisa più di me può raccontarci come è cambiata diciamo così la nostra capacità negli anni di prestare attenzione ecco io penso che questi siano temi che forse noi dobbiamo ricominciare a mettere al centro della nostra della nostra agenda delle nostre priorità perché insisto sono al centro dell'ascoltare ma sono anche al centro dell'umano assolutamente assolutamente grazie Luca effettivamente forse Elisa può aiutarci ad approfondire questo questo aspetto su quanto la tecnologia ha anche cambiato il nostro modo di utilizzare il cervello e parla anche di questo nelle sue nelle riflessioni e posta questa premessa quale spazio ha e come è cambiata secondo te Elisa la nostra capacità di attenzione in questo in questo senso allora sì io stavo prendendo appunti quando Luca parlava perché ho trovato perché mi interessa molto questo tema e perché se posso fare una piccola digressione senza che ci fossimo messi d'accordo in realtà io mi sto occupando per la prossima ieri si era iniziata la prima puntata di presa diretta che hai citato prima una delle ultime puntate a cui io sto lavorando sarà dedicata proprio all'impatto delle nuove tecnologie sui giovani sulle generazioni degli diciamo 0-18 e questo perché in questo momento credo che questo sia il grande tema insomma di cui tutti hanno consapevolezza perché quando io ne parlo tutti sono ben coscienti di cosa di che cosa sta succedendo dai nostri ragazzi ai nostri figli però credo che ancora specie in Italia ci sia tanto da capire da parlare da considerare perché con questa nostra con questo nostro amore per la complessità che per carità va assolutamente salvaguardato si finisce a volte credo per perdere proprio i punti di vista le cose semplici quindi appunto che cosa è successo negli ultimi dieci anni perché parlo soprattutto dei ragazzi ma non che i grandi stiano meglio stanno così male perché è così difficile a scuola insegnare avere l'attenzione imparare apprendere ricordare allora noto in genere una ricerca un po' nebulosa di mille ragioni e a volte invece sempre per carità tutelando il principio del fatto che non c'è mai una causa unica però da qualche parte bisogna cominciare a dire che cosa è successo perché se no come con l'inquinamento ci sono sempre mille ragioni uno dice ok però l'ilva inquina sì allora intanto cominciamo a occuparci dell'ilva poi diremo il traffico poi dire e invece ecco tutta questa premessa perché mi interessava molto il discorso di Luca e poi arriva la tua risposta perché per esempio negli ultimi tempi mi sono anche molto occupata di cercare di capire che cosa sta succedendo nel cervello dei bambini ancora prima di arrivare gli adolescenti ora siccome la scienza ha dei tempi lunghissimi quindi ci vogliono vent'anni prima che riescano ad avere quelle evidenze che possano in qualche modo dire sì questo stare continuamente tanto sui cellulari sui bambini crea un problema poi attentivo crea un problema del linguaggio crea un problema di come dice prima Luca di gestione della frustrazione allora adesso hanno una serie di elementi però prima di mettere nero su bianco giustamente i ricercatori devono aspettare i tempi diciamo di tutti questi trial anche perché non è che si può prendere dei bambini o dei ragazzi o delle persone e metterli 10 ore al giorno davanti a un telefono e vedere che cosa succede cosa non si può fare quindi si possono fare solo degli studi giusto Luca cioè di tipo così random e cercare di capire cosa succedendo però proprio pochi giorni fa parlavo con uno di questi esperti con uno di questi scienziati che mi diceva tutte le cose che loro suppongono che ipotizzano però su una cosa erano certi su una cosa proprio ci sono cioè proprio sono sicuri ed è esattamente la cosa che diceva Luca cioè l'impatto che ha poi nel bambino del più piccolo che poi cresce e diventerà un ragazzo o un adulto questa relazione che non questo cioè questa relazione interrotta questo schermo che che avviene nella appunto in questo rapporto che è quello più importante di costruzione dell'identità della personalità che è il rapporto appunto del bambino ma che sempre più spesso per motivi proprio anche di sopravvivenza perché un bambino è complesso da gestire e per abitudine sta sul telefono invece di occuparsi del bambino al di là di quando piange ma anche proprio una relazione che viene schermata da questo da questo oggetto noi ci dimentichiamo sempre questa è una cosa che mi piace sempre ripetere che la parola schermo schermo nell'antico germanico è lo scudo è una forma di protezione quindi è qualcosa che ti protegge ma anche che ti scherma proprio quindi crea una barriera tra te e l'altro per cui è interessante proprio partire dal fatto che e da questa cosa cioè dal fatto che tutti gli studiosi su una sola cosa per ora sono d'accordo e che quella relazione così vitale così importante per la costruzione poi del proprio ruolo nel mondo e del proprio spazio nel mondo viene bruscamente interrotta viene corrotta passatemi il termine da questo oggetto che è appunto il telefono o il device in qualche modo e quindi trovo particolarmente interessante lo spunto che dava Luca proprio sul fatto che quello è in realtà è proprio è un ascolto che viene meno uno spazio di intimità come diceva Luca quindi ritornando quindi è chiaro che questo tema io parlo da giornalista parlo da una persona che da anni per motivi anche personale perché poi io sono una grande fruttrice oggettivamente come tutti credo ma insomma anch'io di questi oggetti da anni mi pongo questo problema tra l'altro mi veniva in mente che quando io avevo cominciato ad occuparmi di questo tema all'inizio proprio dal 2018 perché prima fu una puntata quella che citavi per connessi poi è diventato un libro poi insomma adesso continuo a esserne appassionata perché credo che sia il grande tema della nostra epoca che ha mille come vedete sono qui con voi proprio perché ha mille chiavi di lettura era iniziata perché mi ricordo avevo letto uno studio americano di alcuni anni fa che diceva come erano aumentati i piccoli incidenti nei parchetti giochi dei bambini perché le mamme i genitori le tate stavano al telefono quindi non si accorgevano che il bambino cadeva giù dallo scivolo si faceva male e da lì avevano cominciato a capire che qualcosa stava cambiando proprio nella relazione simbiotica che una mamma un genitore insomma dovrebbe avere quel bambino allora tornando al tema che mi dicevi come è cambiato ora io naturalmente non sono un neuroscienziato e quindi chiedo scusa se in ascolto ci sono delle persone che sono molto più competenti di me però insomma credo che tutto parta dalla da una considerazione che anche questo io amo sempre ripetere perché per me è stata una grande epifania io vengo da studi letterari quindi non vengo da studi scientifici non ho fatto biologia ho sempre letto libri ho fatto filosofia pensando che la mia identità fosse quella fosse qualcosa di astratto non ho mai pensato alla componente biologica organica dei miei pensieri quindi quando ho incontrato sul mio cammino la neuroplasticità c'è questa capacità del nostro cervello anche meravigliosa perché vuol dire che ognuno di noi nasce senza essere cablato quindi è come un'architettura aperta può diventare un po' quello che vuole a seconda di quello che fa quindi Luca mi insomma potrà essere molto più esplicito di me però insomma noi in buona sintesi questo insomma detto per noi che non abbiamo fatto studi di biologia noi diventiamo quello che facciamo diventiamo il nostro cervello le nostre reti neurali diventano a seconda di come le addestriamo di come le rafforziamo o al contrario di come le di come invece non le esercitiamo ora questo dicevo per me è stata una grande rivelazione perché l'idea che il nostro cioè che noi dovessimo allenare all'inizio si parlava proprio di questo l'ascolto è anche un frutto di allenamento io non avevo mai pensato a questo quindi parlando dell'ascolto o dell'attenzione io pensavo che fosse qualcosa che uno aveva o non aveva ne era portato non pensavo che un atto un gesto così pervasivo come è diventato questa nostra questo nostro stare continuamente su un telefono che invece rafforza e allena una modalità che è quella della velocità che è quella della superficialità che è quella anche del prendere continue decisioni perché noi quando scrolliamo quando siamo su in rete continuamente decidiamo se entrare uscire se andare in un link se aprire cioè che questo che tutto questo esercizio che noi facciamo per ore al giorno avesse un impatto poi sulle nostre capacità attentive cognitive emotive riflessive io su questo diciamo non avevo mai riflettuto è stato appunto in questo lungo viaggio per neuroscienziati per studiosi che attraverso poi le risonanze magnetiche funzionali stanno vedendo ormai danno che cosa succede nel nostro cervello che ho cominciato a capire che quindi questa che quindi noi stiamo veramente cambiando stiamo biologicamente cambiando e questo allora non è definitivo proprio perché siamo plastici però non è come dire però non siamo elastici quindi non è che se noi abbandoniamo cioè lo stare continuamente su un telefono per tornare al tema che è un po' più mi è caro lo stare continuamente su dei link che per definizione perché internet può essere è anzi è un luogo di estremo interesse è veramente una miniera inesauribile però oggettivamente non è fatto per stare è fatto per sfogliare è fatto per saltare da un link all'altro perché ha questo e questo è il karma della rete per questo noi quando entriamo su un social ma anche nel web anche per cercare la cosa più interessante del mondo poi ci troviamo risucchiati e passiamo ore lì dentro perché così è fatto ed è anche voglio dire è anche bello che sia così il problema è che poi noi come dire quando poi torniamo nella nostra nella nostra vita offline cioè offline come si dice offline on life ormai c'è tutta una gran confusione poi noi applichiamo quella modalità ed è per questo che poi non siamo più in grado di essere attenti di ascoltare e anche qua poi nasce la parola a Luca io ci tengo sempre a precisare una cosa e intanto ci tengo a ricordare che quando anche io avevo proposto a Riccardo proposto del vostro tema Iacon al mio capo di fare quella puntata fu perché io lavoro come giornalista quindi vivo con persone molto connesse e quindi le mie giornate si svolgevano in questo modo che io cercavo di parlare con qualcuno c'è sempre qualcuno con un telefono in mano ma tuttora mi dice parla ti ascolto stando col telefono in mano e la percezione che io avevo e continuo a avere è che questo ascolto è veramente a lui sembra di ascoltare ma non è un ascolto è un ascolto parziale un ascolto veramente limitato superficiale esattamente quello che noi abbiamo in rete e dicevo la cosa che mi interessa tantissimo puntualizzare che poi secondo me verrà approfondita durante il convegno durante l'incontro insomma di marzo è che spesso si confonde secondo me l'attenzione per tornare a un tema caro a tutti come anche a qualcosa di estremamente concentrato come ad una a una specie di focalizzazione che è anche questo è anche una focalizzazione la capacità di stare ma è anche un'apertura cioè attenzione anche una forma diciamo ad tensus come dice la parola di proprio di attesa come diceva Simone Weil quindi è una permeabilità una capacità veramente di stare in ascolto per tornare al vostro tema che noi purtroppo abbiamo perso perché quando noi stiamo tutto il giorno su Instagram Facebook o TikTok per i più giovani di noi in realtà noi stiamo non siamo semplicemente distratti noi siamo in un concentratissimo stato di distrazione quindi in realtà quell'attenzione cioè quell'apertura verso gli altri quella porosità che ci permette poi di cogliere quello che succede che ci permette di vibrare che ci permette proprio di esserci con qualcosa che accade noi non l'abbiamo più è un po' come se qualcuno ci lanciasse una palla e noi la facessimo cadere perché siamo siamo da un'altra parte siamo sempre altrove quindi non siamo più capaci di essere di apprendere di stare su una cosa ma neanche di stare proprio in quello stato mentale di apertura che ci consente veramente di connetterci in senso etimologico con gli altri e finisco cosa ancora più grave con noi stessi non siamo più in ascolto con noi stessi e se non siamo in ascolto con noi stessi perché non accettiamo più il vuoto quel vuoto che ci consentiva anche di attraversare le nostre ombre le nostre paure le nostre meschinità tutto quanto poi come possiamo come dire essere in ascolto con gli altri avere come diceva Luca quell'empatia quella capacità anche di capire il dolore degli altri quello che passa se non siamo più capaci di ascoltare noi stessi cioè il pensiero e quindi anche la capacità di stare negli altri passa prima di tutto in quella capacità di stare con noi stessi che noi non facciamo più perché siamo sempre su un device certo certo assolutamente Lisa mi facevi riflettere anche quando parlavi dell'allenamento dell'ascolto di cui avete parlato avete parlato entrambi anche del tema della pazienza nel senso che quando parliamo di ascolto parliamo anche del tema della pazienza della capacità di attendere siamo capaci davvero di fare questo e quindi siamo capaci di esplorare un punto di vista con pazienza e nell'era della distrazione insomma di cui tu parli è ancora possibile mettere in campo in campo pazienza secondo te proprio no devo dirlo no è per tornare al vostro tema siamo sempre qua per quello che avevo accolto con grande entusiasmo la proposta di partecipare a questo libro a questi incontri perché in realtà per esempio l'ascolto l'ascolto presuppone anche il disagio la noia la fatica di ascoltare appunto qualcuno se ci pensate noi non ascoltiamo più neanche più telefoniamo noi non usiamo più il telefono per telefonare perché telefonare vuol dire ascoltare qualcuno che ti dice qualcosa e questo mette in moto appunto una serie di fatiche e di pazienze che non abbiamo più voglia di affrontare e infatti come comunitiamo attraverso messaggi attraverso adesso addirittura con i vocali partono centomila vocali quando tu dici ma non ci possiamo chiamare e dirci le stesse cose a voce no perché se ci chiamiamo ciascuno dei due sa che dovrà tollerare una serie di fastidi che la tecnologia ahimè ci ha consentito di eliminare dalla nostra vita cioè tutto quello che fa attrito che comporta proprio una fatica c'è uno studio che anche questo cito sempre perché mi era particolarmente colpito che riguarda che io citavo nel libro che riguarda che hanno fatto alla Georgetown University uno studio sui sorrisi e hanno visto proprio come le persone hanno messo dei gruppi di persone con un telefono in mano degli sconosciuti ad alcuni hanno lasciato un telefono il telefono in mano ad altri invece gliel'hanno sequestrato e hanno proprio fatto questo studio molto famoso super citato in cui si vede che le persone senza il loro telefono quindi la loro capacità di astrarsi di essere altrove di essere molto presenti con gli assenti assenti avevano una quantità ma molto cioè virtuosamente superiore di sorrisi autentici anche o non se non ricordo mi sembra Duchenne o qualcosa del genere che quel sorriso vero cioè non il sorriso affettato il sorriso che è una delle prime forme proprio di comunicazione non verbale che è un moto di fiducia proprio un patto una specie di link che crea quello sconosciuto e proprio alla fine di quello studio uno studio scientifico quindi non uno studio diciamo di letterati era bella la considerazione finale che facevano questi ricercatori perché dicevano il telefono la tecnologia non solo ci offre tante meravigliose opportunità ma ci offre anche la possibilità proprio di non di non stare più nel disagio perché noi possiamo scegliere no quando rispondere a chi rispondere dove rispondere che cosa dire cosa ascoltare mentre tutto quello che apparteneva proprio si chiama poi vita tutte quelle crepe quelle noie quei fastidi queste cose la tecnologia ce le ha rimosse ma con grave perdita no proprio del nostro essere umani e della nostra crescita uno studioso anche questo che mi piace sempre ogni volta tirare fuori l'americano dice la tecnologia la comodità che ci consente la tecnologia e quindi questa assenza di pazienza questo aver fatto fuori la fatica quell'attrito che ci faceva arrivare a una meta attraverso percorsi complessi però dice è tutta destinazione niente viaggio cioè è tutta meta noi arriviamo sempre subito alla meta cerchiamo una abbiamo un dubbio una cosa tac abbiamo subito la risposta ma nel viaggio nella scoperta nei derapage no che che partono quando tu stai andando da una parte ti trovi dall'altra che che esce cioè che che c'è la vera essenza no del tutto di noi come persona persone delle scoperte negli errori cioè oltre al fatto che che insomma io sono terrorizzata francamente da madre ma insomma da persona questo rimuovere la fatica e e veramente la pazienza dalle nostre esistenze non tanto noi che abbiamo una veneranda età ma i ragazzi perché questi ragazzi che a cui è tutto così semplice e che non pensano più che invece la fatica e l'impegno cioè anche la frustra la gestione della frustrazione che diceva Luca è un problema perché se noi non siamo noi non siamo più in grado di ascoltare proprio perché non siamo più in grado di gestire la frustrazione la frustrazione di una persona che ti dice delle cose che in quel momento non ti va di sentire ma chiunque credo abbia sperimentato che proprio in quella pazienza che dicevi tu che poi escono si hanno le illuminazioni più grandi che si hanno le grandi apparizioni i grandi cioè le grandi le grandi come dire le luci come dire quei momenti ce li ho avuti quando ascoltavo qualcuno mettendomi lì dicendo vabbè questo mi sta dicendo qualcosa oppure sono in una in una situazione l'ascolto può essere anche voglio dire l'ascolto di una di una vicenda di un fatto non è sempre solo la persona fisica in cui ti dici perché sono qui che ci faccio qui che noi essere qui e poi proprio perché eri in stato di ascolto avveniva qualcosa succedeva qualcosa e tu eri in grado di coglierlo ma se noi rimuoviamo questa pazienza questa capacità di stare ma quanto ci perdiamo di quello che può avvenire cioè è veramente il tema che avete scelto secondo me è veramente il nucleo di tutto perché tutto passa guardate io lo dico anche dal giornalista per esempio spesso gli intervistati danno delle risposte sbagliate inutili che non servono che tu dici quando lo ascolti dici ma che ci faccio con questa risposta però credetemi la maggior parte delle volte è perché non solo la domanda era sbagliata ma anche perché il nostro ascolto era un ascolto sbagliato era un ascolto passivo era un ascolto distratto io credo che davvero l'essere in ascolto in modo attivo profondo e vero è sempre una grande ricchezza perché la persona che ci parla o la persona intervistata o la persona che si interfaccia con noi nel momento in cui gli diamo attenzione gli diamo ascolto ci regalerà sempre qualcosa di più profondo di più di più forte di più sincero perché dare attenzione è come dire un dono e a sua volta noi riceveremo un dono io le persone che conosco più brave per esempio nel mio mestiere sono quelle che sanno ascoltare e sanno ascoltare ma non per tinta per il mestiere ma perché veramente sono lì e sono nel dolore nella storia che hanno davanti e vi assicuro che quello che portano a casa è mille volte sempre di più rispetto a quello che invece sta lì e si capisce che sì 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 però è altrove quindi io dico sempre siate grandi ascoltatori anche per egoismo non dico per generosità fatelo per voi se non lo volete fare per gli altri perché tornerete a casa estremamente più ricchi rispetto avrete perso veramente tempo cioè il tempo passato ad ascoltare in modo in modo non acceso è una perita di tempo per chi con voi ma anche per voi giusto Luca? Assolutamente assolutamente sì sottolineavi questo tema della pazienza mi veniva in mente mentre parlavi quello che diceva John Keats 200 anni fa quando parlava di capacità negativa come capacità di sostare nell'incertezza tema che poi riprende il buon bio psicanalista importantissimo io credo che non siamo più troppo capaci di sostare nell'incertezza è come se avessimo bisogno immediatamente di trovare una forma ed è chiaro che ad esempio nei processi di crisi per parlare del mio mestiere se non sai sostare nell'incertezza come dicevi bene tu che cosa vuoi capire se hai troppo fretta di chiudere se hai troppo fretta di in qualche modo smettere di pensare sostare nell'incertezza sembra che stia diventando qualcosa di troppo faticoso è bello questo sostare nell'incertezza è molto è molto bello un grande compito anche degli operatori dei professionisti che lavorano nel sociale o nel socio nel socio sanitario Lisa faceva anche riferimento alla capacità di stare nella difficoltà nella stare nella frustrazione aspetti che sono estremamente importanti nell'ascolto che mettono in campo o dovrebbero mettere in campo gli operatori e professionisti nelle relazioni nelle relazioni d'aiuto e qui quindi Luca ti chiedo per poi lasciare spazio a tutte le domande che sono sono arrivate ne sono arrivate un po' quindi cercherò di fare sintesi ma vorrei vorrei chiederti questa cosa prima appunto in riferimento a questo stare nella difficoltà no? Perché è difficile ascoltare anche il dolore? Perché è difficile e noi operatori però come dire abbiamo anche questo compito? Ma intanto sostare nell'incertezza è il primo dei compiti di qualsiasi operatore nel senso che è sempre più difficile e sempre più difficile soprattutto nel post pandemia nel senso che credo che molti nostri utenti pazienti clienti chiamiamoli come vogliamo portano complessità spesso anche dettate da ipofrontalità a proposito delle connessioni spesso anche dettate da un'istintualità così forte anche a volte da un'aggressività così forte che rende tutto più difficile da ascoltare e che tenta anche spesso di bypassare l'incertezza però certamente una delle difficoltà degli operatori è questa l'altra difficoltà a cui faceva anche l'interimento Lisa come dice Clara Mucci come si ripete Clara Mucci anche nell'approfondimento che fa sul nostro testo è che ascoltare vuol dire essere presenti essere lì con la mente con il corpo e con il cervello intesa in senso anche più psicologico filosofico emotivo affettivo con il corpo perché come faccio io ad ascoltare l'altro se non lo ascolto con il mio corpo perché sono tutto teso da qualche altra parte ha molto ragione Lisa quando dice che non è ascolto se io dico parla ti ascolto e poi sto facendo altro con un cellulare e anche con il cervello perché poi l'ascolto bassa anche da questioni molto neurobiologiche molto neurologiche e quindi è grande fatica ma volevo in pochissimi minuti raccontare la storia di Dori Laub che per me da questo punto di vista è assolutamente centrale perché ascoltare il dolore è difficile ma non è difficile solo perché nessuno voglia di ascoltare il dolore chi è che voglia di ascoltare il dolore soprattutto oggi nessuno e quindi non solo per delle questioni più intuitive ma Dori Laub ha cinque anni un bambino di fede ebraica nasce nel 37 a cinque anni viene deportato insieme a tutta la sua famiglia viene deportato in un campo di lavoro in Ucraina che ha un nome che io non riuscirei a ripetere ma che è tradotto è Cava di Pietra per cui possiamo facilmente immaginare non uno dei posti più felici della terra tra le altre cose lui resta in questo campo di lavoro dai cinque ai sette anni e quando a sette anni torna a casa sostanzialmente buona parte della famiglia con cui era stato internato è morta nel senso che soprattutto tutti i maschi della famiglia muoiono lui torna con la nonna e con la mamma di questi due anni lui ricorda solo ed esclusivamente prati verdi e cieli azzurri non ha nessuna traccia nella sua memoria questo lo ripete lungamente non ha nessuna traccia nella sua memoria delle atrocità che possiamo facilmente immaginare avrà incontrato in questo campo fatto sta che lui poi si laurea in medicina a Gerusalemme e lavora per circa un anno in un ospedale psichiatrico ad H lui dice forse per un caso io mi ritrovo a lavorare con i traumi dice forse per un caso ma forse neanche troppo per un caso nel senso che poi il trauma chiama il trauma evidentemente e inizia a fare questo lavoro soprattutto con militari che tornano dagli scontri della guerra dalle Yom Kippur con tutta una serie di grandi fatiche con tutta una serie anche di grandi scoperte sul disturbo post-traumatico da stress come tutti facili immaginati il fatto sta che nel vivere questi reparti di psichiatria incontra una serie di pazienti psichiatrici anziani probabilmente ex internati chiusi in lunghissimi silenzi e come dire questi pazienti diventano sostanzialmente stabili in questi reparti dove nel corso degli anni invece gli operatori tendono a cambiare tendono poi a lavorare poi a trasferirsi eccetera e di questi pazienti nessuno di fatto sa più nulla si sa che sono lì da molto tempo ma sostanzialmente chiusi nei loro silenzi non raccontano che nessuno che nessuno sostanzialmente racconta di loro Dory Lau poi torna negli Stati Uniti prende una specializzazione in psicanalisi e ad un certo punto ritorna con una delegazione di analisti americani ritorna ritorna a Gerusalemme e durante una visita in uno di questi reparti viene avvicinato da uno di questi pazienti che non parla da circa 30 anni e questo paziente comincia a girargli intorno e lui si accorge che c'è un interesse da parte di questo paziente per cui gli chiede se ha voglia di fare due chiacchiere ripeto questo è un paziente di cui nessuno sa sostanzialmente più nulla che da 30 anni è in silenzio il paziente annuisce quindi loro si spostano in una stanza e il paziente improvvisamente gli chiede se lui conosce una tal famiglia di Brooklyn per Dory Lau è un momento molto emozionante ma anche per gli infermieri del reparto evidentemente Dory Lau dice che non conosce questa famiglia di Brooklyn ma gli chiede il perché e lui dice perché probabilmente sono le uniche persone sopravvissute della mia famiglia ai campi di concentramento allora Dory Lau chiede se lui ne ha mai parlato con qualcuno e questo paziente dice non ne ho mai parlato con qualcuno perché nessuno mi ha mai chiesto nulla dice questo paziente allora lui comincia ad interrogarsi su come sia difficile parlare di un trauma che tutti evidentemente o in prima generazione o in seconda generazione o più avevano vissuto all'interno di quel contesto e all'interno di quella comunità diciamo così e lui capisce che è talmente importante ascoltare queste persone che non parlano da tanti anni e far domande a queste persone che non parlano da tanti anni che comincia a videoregistrarle comincia a videoregistrarle e come dire costruirà un archivio molto interessante molto importante anche molto doloroso di queste testimonianze che poi confluisce nell'archivio Spielberg che credo sia molto più noto molto più famoso ma qual è la cosa che è interessante diciamo così di tutta questa questione di tutta questa questione quello che è interessante è che chi viene colpito da un medesimo trauma difficilmente riesce a parlare di quel trauma e chi è colpito dalla medesima sofferenza difficilmente riesce a parlare di quella sofferenza cioè la sofferenza soprattutto quando due sofferenze si incontrano che sono simili creano delle vere e proprie arie cieche nella mente diciamo così allora ascoltare il dolore intanto è difficile per questo ascoltare il dolore è difficile perché ascoltare il dolore vuol dire diventare testimoni di quel dolore vuol dire incarnarlo partecipare in un modo incarnato all'ascolto di quel dolore anche vincendo quelle che sono le nostre resistenze anche vincendo quelle che sono le nostre complessità e quelle che sono le nostre storie per cui ascoltare il dolore è difficile soprattutto quando il dolore è simile al nostro soprattutto quando il nostro non è stato sufficientemente curato e allora credo che questa sia una delle prime questioni che gli operatori che si occupano di ascolto devono in qualche modo affrontare è vero che il dolore mi aiuta ad essere più empatico non c'è dubbio ma se è un dolore risolto in qualche modo se è un dolore conosciuto altrimenti mi aiuta solo ad essere più cieco diciamo così Aldo Carotenuto che è stato uno psicanalista italiano molto importante che tra l'altro ha messo insieme forse le due grandi anime della letteratura della psicanalisi lui diceva che le ferite sono importanti se diventano feritoie diceva le ferite dell'anima in qualche modo noi dobbiamo curarle dobbiamo permettere alle ferite di smettere di sanguinare diciamo così ma queste ferite non si devono richiudere completamente devono restare feritoie che ci permettono di entrare ed uscire diciamo così dal nostro mondo interno di prendere contatto con tutta una serie di aree che possono aiutarci nel capire l'altro quindi ecco vado veloce ma solo per dire che l'ascolto del dolore è difficile e complicato intanto perché il dolore non è piacevole e se siamo sempre alla ricerca del piacere il dolore è l'ultima cosa che ci passa ma anche perché anche quando siamo un po' più attrezzati si generano delle aree cieche su cui dobbiamo stare particolarmente attenti assolutamente assolutamente grazie per per gli stimoli perché appunto vabbè personalmente nel senso ringrazio nel senso come sto segnando anch'io diverse diverse cose anche diverse riflessioni e stanno arrivando anche da appunto da da chi ci segue online sia dei dei messaggi di apprezzamento ma anche appunto delle 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 riflessioni e delle delle domande adesso non credo ci sia la possibilità di rispondere a tutte le le domande che che sono che sono arrivate però ecco una una risposta al volo a Paolo che diciamo chiede quando andrà in onda la la trasmissione sull'impatto delle delle nuove tecnologie Lisa mi diceva che andrà in onda su presa di diretta su su Rai3 il 20 marzo ecco poi invece rispetto appunto a tutte le riflessioni che stanno arrivando tante riflessioni stanno arrivando rispetto a l'utilizzo della tecnologia e l'ascolto in generale dei ragazzi degli adolescenti e dei ragazzi nei nostri confronti quindi diciamo l'ascolto dei ragazzi verso verso l'adulto prendo una domanda che in realtà mi ha mi ha colpito quindi faccio io diciamo una una selezione però ecco altre altre ne arrivano rispetto a questo e dice perché qui anche i bambini e i ragazzi di oggi non sanno ascoltare gli insegnanti non sanno ascoltare ascoltare i genitori oppure chiedono come possiamo richiamare gli adolescenti all'ascolto e far comprendere loro che per ascoltarsi è necessario sconnettersi se la fatica sta già nel farci ascoltare da loro ecco vi vi sollecito con queste due riflessioni rispetto al al campo degli adolescenti perché appunto ne abbiamo ne ha parlato anche Lisa ne avete parlato ne avete parlato entrambi chiedo magari a Luca di intervenire certo sì sì volentieri ma è tema certamente molto importante ovviamente quello dell'ascolto e dell'ascolto degli adolescenti e viceversa credo che quello che noi sappiamo benissimo è che gli adolescenti hanno un ascolto nei nostri confronti nei confronti degli adulti come dire è come se noi dovessimo essere disponibili quando loro sono pronti per condividere e quindi questo è il grande primo tema cioè una certa quota di disponibilità una certa quota di presenza e poi ovviamente come dire come si può insegnare si può insegnare adesso io voglio dire con l'esempio che sembra molto 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 superficiale come risposta ma ma come dire quello che noi sappiamo per certo è che quello che noi sappiamo per certo è che se non c'è una presenza e relazione anche in adolescenza comunque non ci può essere non solo disponibilità ma non ci può essere quell'investimento delle aree superiori della mente che sono poi al centro a proposito di connessione poi al centro evidentemente di una disponibilità anche neurologica all'ascolto per cui ad esempio è qualcosa di molto concreto perché come dire questo tipo di esperienza la plasticità del cervello è qualcosa che si forma e come dentro la relazione cioè è un allenamento che si fa soprattutto in coppia diciamo così per cui il genitore questo allenamento lo deve sollecitare dando per primo diciamo così una sua disponibilità a un ascolto che sia con la mente con il corpo con il cervello tutte e tre insieme grazie grazie Luca per queste riflessioni magari lascio la parola a a Lisa su so che poi ci deve ci deve lasciare perché deve deve scappare quindi magari le lascio la parola su un'ultima un'ultima domanda che è arrivata e che forse insomma può provare a rispondere lei non lo so che ci fa riflettere di diletta che ci chiede perché allora si potenzia senza freni questa questa tecnologia se crea disumanizzazione o forse diciamo se ci crea questa difficoltà nell'ascoltare è una domanda complessa però cercheremo anche cercheremo anche un po' di rispondere in questa in questa puntata che stiamo lavorando e beh è perché beh intanto allora intanto guardate è estremamente difficile da regolamentare questo questo mondo e secondo me intanto il primo problema è estremamente difficile ed è per questo che io ne sto facendo ormai una specie di battaglia e sono ossessionata perché penso che per ogni cosa occorra una grande consapevolezza finché non ne saremo fortemente tutti consapevoli finché non avremo chiaro la posta in gioco che cosa stiamo perdendo non ci sarà mai come dire un movimento forte dall'alto dal basso di fianco di lato che possa costringere ad una regolamentazione di questo di questo mondo e è stato così per il fumo è stato per l'amianto è stato così per il petrolio cioè è evidente che ci vogliono sempre un sacco di anni da quando c'è un problema da quando ce ne cominciamo ad avvedere da quando qualche studioso o più o molti studiosi cominciano a dire guardate abbiamo un problema poi ci sono sempre le controprove non c'è mai qui c'è questo problema che vi dicevo all'inizio della scienza che finché non ha tutte le evidenze finché non sono tutti d'accordo è una correlazione o c'è un principio o c'è un nesso causale e non si ne esce mai quindi finalmente poi fra vent'anni io sono convinta veramente ve lo dico io non ci sarò più ma insomma fra venti e trent'anni sono convinta che arriveremo a vietare per esempio questi social per i ragazzini i ragazzi fino ai diciott'anni così come abbiamo fatto col fumo come abbiamo fatto con l'alcol così come abbiamo messo a un certo punto le cinture di sicurezza abbiamo messo gli airbag perché abbiamo deciso abbiamo capito forse anche se ci schiantavamo avevamo la cintura forse era meglio ci vogliono dei tempi allora queste società sanno perfettamente quello che sta succedendo ce l'hanno chiarissimo ci sono stati cioè sono usciti un paio di anni fa questi chiamati facebook facebook papers insomma perché un ex dipendente allora si chiamava facebook adesso si chiama meta comunque parliamo di instagram per i ragazzi se ne è uscita se ne è andata portandosi dei pacchi di documenti in cui c'erano le ricerche interne del gruppo lì di instagram cioè facebook in cui questi sappiamo benissimo l'impatto che questa roba sui ragazzi sulla loro salute mentale sulla loro sull'aumento dei tentati suicidio soprattutto in un momento come l'adolescenza in cui soprattutto le ragazze hanno questo disagio questo rapporto faticoso col proprio corpo entri in una comunità che non fa che rinforzare e amplificare a mille il tuo disagio non sei più tu sola con le tue 4-5 amiche del paese ma sei tu altri 5 milioni di persone che condividete il vostro trauma è evidente che poi quella crepa diventa una voragine però ecco tornando alla domanda perché non siamo in grado perché è estremamente difficile regolamentare o addirittura bloccare qualcosa che intanto per sua natura è estremamente attrattivo ed estremamente affascinante e dentro a cui passa anche tanta roba buona perché non è che noi possiamo dire che dentro i social o internet noi qua adesso ci stiamo parlando ognuno a casa propria grazie ad una piattaforma quindi è proprio ipocrita dire eliminiamo questa roba si può loro poi c'è tutto un dibattito che dura dagli anni 90 cioè le piattaforme non sono anche qua però è sottile perché si parla sempre del e questo secondo me è l'altra grande trappola del problema si parla sempre dei contenuti e i contenuti lo abbagliamo questo contenuto no questo qui si può vedere non si può vedere il problema è proprio la modalità il fatto che per come sono fatti per come è strutturato il business di queste piattaforme che sostanzialmente sono gratis perché perché loro monetizzano la nostra attenzione si chiama economia dell'attenzione proprio per questo proprio perché l'attenzione è talmente il bene più prezioso oggi il nostro tempo le nostre pupille sono talmente preziose che ci hanno costruito l'impero e quindi la gara è nel cercare di tenerci il più possibile lì sopra quindi intanto se noi speriamo che queste tecnologie si autolimitino e quindi rinunciano ai loro fatturati ai loro utili a fine anno mi sembra abbastanza utopia noi i governi tutto quanto lo potrebbero fare ma lo faranno quando ci sarà un enorme movimento quando questa consapevolezza sarà così grande e a me quello che dispiace ripeto sono le nuove generazioni queste che adesso hanno 12 13 16 anni perché questi sono proprio entrati con questo impatto enorme non hanno non hanno avuto una vita precedente e non so perché prima era andata via la luce cioè la batteria quindi non so se l'avete già detto ma il problema del fatto che tutto questo mondo virtuale ha totalmente sostituito le relazioni verle le relazioni faccia a faccia il guardarsi in faccia l'ascoltarsi di persona che è profondamente diverso dall'ascoltarsi soprattutto quando sei un ragazzo che deve imparare a leggere le emozioni il linguaggio non verbale il linguaggio del corpo questi ragazzi stanno solo esclusivamente prima su Instagram adesso su TikTok e quando si trovano e quando sono poi in una dimensione reale di ascolto non hanno più gli strumenti proprio non sono più allenati non sanno neanche più come si fa io li vedo perché ho figli adolescenti che stanno in casa con i telefonini e che interagiscono su quello perché quello è il loro mondo quindi io credo che prima o poi prima o poi si arriverà sono proprio sicura il 100% mi dispiace perché ci perderemo una generazione che sono questi di adesso e guardate che si parla del 20% dei ragazzi che stanno male il 20% è tanto è veramente si parla in Italia l'atteso è un milione un milione e mezzo di ragazzi ma questi sono il nostro futuro il nostro domani ma se non sono stati appunto allenati a questa capacità anche di di prendersi il dolore degli altri di capire di empatizzare di sintonizzarsi di vibrare con gli altri ma che cittadini saranno domani no? che cosa che quale sarà il loro stare nel mondo cioè io sono preoccupata per tutti quanti noi ma lo so e quindi penso veramente che l'ascolto come diceva in apertura Luca vada veramente riportato al centro dei nostri pensieri e come scrivevo nel vostro insomma come nelle risposte all'intervista che mi avete fatto nel libro io penso veramente che oggi ascoltare sia un atto rivoluzionario proprio un atto politico cioè una qualcosa per cui tu ti poni quasi subversivo tutto passa dalla consapevolezza però e passa dal capire quanto tutti noi dipendiamo da questo veramente io volevo finire questo questo incontro credo che sia anche finito il tempo citando un passo di Simone Veil attesa di Dio che io amo tantissimo attesa proprio in questo senso attenzione come attesa come esserci tra l'altro prima diceva giustamente Luca questa presenza tutta la meditazione tutta la cultura buddista i sati è la presenza cioè l'esserci e noi non ci siamo più non siamo più presenti e questo è un problema cioè per questo che la come dire la gamma semantica dell'ascolto è vastissima e mi piace lasciarvi con questo passo di Simone Veil che ad un certo punto in uno dei suoi dei suoi saggi si chiama riflessione sul buon uso degli studi scolastici in vista dell'amore di Dio a un certo punto cita questa cosa che io non sapevo parla della prima leggenda del Graal e si dice che il sacro Graal è la pietra miracolosa che grazie la virtù dell'ostia consacrata sazia a qualsiasi fame apparterrà a colui che per primo domanderà al custode della pietra il re per tre quarti paralizzato dalla più dolorosa delle ferite qual è il tuo tormento cioè colui che chiederà che cos'è che ti fa stare male che cos'è che ti fa soffrire quindi tornando al vostro tema all'ascolto del dolore e dice proprio Simone Veil dice di un tale sguardo di un simile sguardo è capace solo colui che sa prestare attenzione attenzione ascolto proprio quindi a lui a questa persona che saprà fare questa domanda andrà al sacro Graal quindi io con questo vi lascio spero che ci siano motivi di riflessione e vi ringrazio tantissimo per questa occasione avevamo detto chissà cosa ci potremmo dire in un'ora e invece mi ha detto si è volato ringrazio tantissimo Luca per gli spunti grazie che adesso ti chiamerò e facciamo diciamo teniamoci stretti grazie mille presenti nella loro assenza è vero grazie grazie anche a te Alisa grazie a Luca e sì non abbiamo poi avuto modo di rispondere anche a tutte le domande che stanno arrivando a tante di queste domande cercheremo di rispondere appunto durante il nostro nostro evento la nostra giornata formativa dell'11 di marzo di cui abbiamo parlato appunto l'ascolto nella relazione d'aiuto questo è il titolo dell'evento quindi io vi ringrazio vi ringrazio ancora e vi do appunto appuntamento all'11 di marzo buona serata a tutte grazie a tutti grazie Lucia grazie Luca grazie infinite ciao ciao grazie a tutti